Sono ripresi gli allenamenti al San Vitino per i ragazzi di Mister Cappellacci. Dopo la sofferta, ma meritata vittoria contro il tutto cuoio, la mente è già alla prossima sfida. Casertana-Cosenza, 8 settembre, ore 15, stadio Pinto. Noi abbiamo sentito ai nostri microfoni l'artefice del 2-1 di domenica, Jonathan Alessandro, numero 11, rosso-blu, ed il neo arrivato Gianluca De Angelis, che dovrà conquistarsi una maglia da titolare. Abbiamo vinto, ho segnato, c'era una buona cornice di pubblico, insomma siamo contenti. Ancora, come ho detto, è presto, è normale che ci siano qualche carenza e ci vorrà per diventare squadra. Però l'importante era nei tre punti, sono arrivati e abbiamo un'altra settimana per lavorare. Caserta è una trasferta difficile, ostica, soprattutto perché viene considerata una delle corazzate di questa seconda divisione. Come pensate di arrivarci? Speriamo di arrivarci bene, è una grande squadra, ha fatto un gran mercato, sicuramente è una squadra da battere. Molto mobilmente andremo in lago, come tutte le partite, cercheremo di fare bene. Come ti trovi con Mosciaro e Calderin? Molto bene con tutti, i ragazzi sono tutti molto bravi, hanno fatto una buonissima squadra, di conseguenza poi è facile trovare gli accordi con loro e fa molto bene. Anch'io mi auguro di fare molto bene perché, come ho detto prima, questa è una piazza molto importante dove sicuramente merita molto di più che la seconda divisione. Però sappiamo benissimo che è un campionato molto duro, dove solo le prime otto rimangono in Lega, in Lega, però noi comunque vogliamo esserci. Sicuramente si punterà sulle tue qualità? Sì, infatti ho fatto le corse anche per essere qui sabato, perché comunque volevo esserci domenica, anche almeno per andare in panca. Poi sono stato anche molto felice di aver fatto anche l'esordio qui, però il campionato ora da parte mia, tra virgolette, inizia proprio domenica, dove magari affrontiamo anche una squadra molto forte. Non per cadere nella polemica, ma brevemente ci spieghi quali erano i problemi che ti vedevano lontano dal Cosenza. Io a Cosenza volevo venire dal primo giorno e purtroppo dovevo sistemare alcune pendenze dello scorso anno, quindi il Cosenza non c'entrava assolutamente nulla. Poi appena risolto quello, infatti ho firmato subito. Era d'obbligo chiedertelo perché quello che era uscito fuori era tutt'altra cosa, quindi era giusto? Che bello, infatti, magari quello che era uscito. Infatti sono anche contento di questa domanda, così ho potuto chiarire anche questa mia situazione. Inoltre la società comunica che da questa mattina alle 9 è partita la prevendita dei biglietti per la gara Casertana-Cosenza. La società FC Casertana fa presente che i biglietti inviati saranno quelli del settore ospiti e potranno essere acquistati soltanto da chi è in possesso della supporter card. Costeranno 10 euro più i diritti di prevendita e saranno in vendita presso l'agenzia in prima fila di Cosenza.